Vai! Io penso che, dico sempre che la comicità è un veicolo, no? E quindi ho detto, ho detto, metto una cosa brutta come il Baronato, metto dentro questo veicolo la comicità e cerco di farlo, di raccontarlo a tutti, così nasce il mio film, è tutto a posto e quindi spero che questo veicolo faccia un viaggio bellissimo e che possiate vederlo tutti. Senti, un po' lì sotto della realtà, no? Forse la realtà è anche peggio quello che tu racconti. Assolutamente, la realtà è peggio, tristemente, infatti la battuta che faccio è che non abbiamo girato dentro un'università perché altrimenti sarebbero confusi gli attori con i professori veri e dice, chi è quel professore che vende i voti? Dice, io no, intendo, quindi abbiamo cercato di imitare il danno, ecco. Grazie. 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 Grazie.